Vediamo di aver ascoltato anche noi e quindi proprio in suono voglio suonare questo rock'n'roll visto che lui è un uomo di rock'n'roll, questo ho sentito la My Evil Twin, vuol dire il mio mio gemello cattivo, non vi è mai capitato di avere bisogno della parte cattiva che avete dentro e non riuscite a tirar fuori, la gente vi frega, vi deve fare di tutti i colori, allora in questo caso ho voluto chiamare, cercare di chiamare questo gemello cattivo che venga ad aiutare, venga ad aiutare la situazione e risolverla in qualche maniera, ci sei Luca? My Evil Twin, rap! Ciao! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie 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 Grazie